Una cosa, io avevo detto che salendo su questo palco dovevo portare un mazzo di rose all'onorevole De Girolamo e poi all'ultimo ho preferito portare quello che io rappresento, che è la nostra storia di mezzo di uso, che è il nostro libro e lo voglio donare a De Girolamo in cambio di quelle ruspe che ci voleva mandare. Sindaco, le ricordo che io sono, a parte una donna che nella vita ha sempre studiato, anche una donna che ama profondamente la Sicilia, ma quella Sicilia, e quando sono venuta qui, e lei lo sa, sono venuta e ho accolto con grande piacere l'opportunità che mi ha dato Massimo, perché io speravo che venendo qui potessimo dare un messaggio sano insieme, insieme, non da sola, insieme. Mi ricordo. E te l'ho dimostrato e glielo ho dimostrato. Un messaggio di dire alla gente per bene del Sud reagiamo. Noi non siamo venuti qua per dire c'è la mafia o siete mafiosi, siamo venuti qua per dire che tre donne come loro e tanti uomini come quello che ha denunciato e a cui ha fatto riferimento Massimo, non debbano vivere mai più con la paura a Mezzogliuso o nel resto d'Italia. Sono d'accordo con lei su questo. Solo questo. Le ruspe sono parte della mia cultura. Ora, io intendo le ruspe, state sereni, ho fatto... Sereni, sereni. State sereni perché ho fatto politica e quattro gruppetti organizzati li ho fatti nella mia vita per dieci anni. Scusate. Allora, detto questo... Calmi, buoni. Scusate, io... Parlaci tu, sindaco, perché a te obbligiscono. Io dico, allora, siccome ho visto il lavoro questi ragazzi e questo grande staff che ha, complimenti, dottore Giletti, non voglio dire allora che hanno fatto il loro lavoro male, perché non ci credo, perché è passato un messaggio completamente diverso. No, è passato per te. No, è passato un messaggio... E andare sulla cultura sbagliata del mezzogiorno, non su una comunità. Vale. Non su una comunità. Ho capito male io. Io, io, ho visto tre donne piangere, soffrire e ho visto gente girare la testa dall'altra parte. Al di là di ogni... Su quello voglio la ruspa. Sì. Su quello...